Pronostici rispettati. Sono 16 le liste presentate a Vibo Valencia per la corsa alle comunali del 26 maggio, con 4 candidati a sindaco. 8 quelle a sostegno di Maria Limardo, prima donna a ricoprire questo ruolo. Dalla sua parte lo schieramento di centrodestra, con 3 liste di partito, Forza Italia, Udc e Fratelli d'Italia, e 5 movimenti civici. Sono liste che hanno una rappresentanza fornita di tutte le categorie che ci sono presenti sul territorio. Ci sono gli operai, ci sono gli artigiani, i professionisti, c'è tutto il mondo vibonese. È un mix tra persone che già hanno esperienza amministrativa e innesti di innovazione con dei giovani rappresentanti che certamente potranno ben rappresentare la città. 6 invece quelle che spingeranno l'ex presidente del Consiglio Stefano Luciano, tra le quali l'unica politica è quella del Partito Democratico. La serietà si dimostra anche da questo. Quando si dicono i numeri delle liste devono essere tali. Io diffido di chi dice numeri e millanta numeri che poi nei fatti non ci sono, perché questo è il preludio per prendere in giro gli elettori. Noi siamo seri, abbiamo detto 6 liste e 6 liste sono state depositate. Gli obiettivi sono quelli di offrire a Vibo Valencia una classe dirigente nuova che sappia realmente interpretare quelle che sono le esigenze politiche e amministrative che oggi questo territorio che è in grande sofferenza produce. Questa mattina a Palazzo Luigi Razza è stata depositata anche la lista di Francesco Belsito, a capo del Movimento Fare dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. I nostri obiettivi sono quelli di rendere Vibo Valencia una città vivibile. Cerchiamo di, abbiamo un programma dove noi abbiamo evidenziato le problematiche di base, di facile realizzazione. Per quelli che poi sono i progetti più importanti, allora a fine elezione, nel momento in cui saremo, se saremo all'interno del Comune, valuteremo i progetti che si possono realizzare. Il Movimento 5 Stelle, che appoggia Domenico Santoro, la sua lista l'aveva già presentata ieri. Saranno circa 450 gli aspiranti ad uno scranno a Palazzo Luigi Razza. Giuseppe Mazzeo per la CNews24 Grazie a tutti.